Si pedalerà sul piano ma si pedalerà anche ad alta quota con un nuovo percorso che anche questo è pronto a nascere e collegherà quindi il Valle Gandino alla Val Borlezza, a che punto si ha? Allora è stato dato l'incarico per la progettazione definitiva esecutiva, è un collegamento che dal Monte Farno, diciamo dalla montagnina, dal Triboli dei Morsi per chi conosce il territorio, si collega con Fogherolo. È il primo tratto, quello più impegnativo, che oggi per quanto riguarda l'attraversamento diventa complicato ma creando questo anello pedonale e bike per poter far passare le persone avremo un anello anche sulle montagne che uno partendo da Endine, da Ranzanigo, piuttosto che da Casnigo può fare il giro completo delle montagne in alta quota. Siamo sempre intorno ai 1000, 1200, 1300, 1400 metri quindi un anello di alta quota che consentirà di valorizzare ancora di più questo territorio. L'idea è appunto di fare in maniera che le bici transitino su dei luoghi ben dedicati quindi evitando la commistione tra sentieri pedonali e sentieri per le bike in maniera che si crei questo distacco e non ci siano quei problemi che in molte situazioni, soprattutto in Trentino, si sono rividenziate dove appunto la sovrapposizione ciclisti e pedoni ha dato qualche problema. Il vantaggio che abbiamo è che sulle strade del nostro anello montano sono strade, quindi sono strade VASP, quindi agrosilvo pastorale, che consentono il transito anche delle bici. Questo tratto mancava, creare questo collegamento consentirebbe avere un anello anche per loro in maniera che i pedoni possano andare su tratti diversi e questa sia un'opportunità di conoscenza del territorio montano che collega appunto la Val Gandino, la Val Borlezza e anche la Val Cavallina. Tempistiche, chi sono gli enti interessati, quanti soldi verranno investiti? Il progetto complessivo è intorno ai 160 mila euro, è diviso in due parti, il primo pezzo appunto Triboli di Morce, Fogarolo e Fogarolo Campodavene. Sul Fogarolo Campodavene la situazione non è così complicata e quindi l'intervento sarà in un secondo step. L'intervento più grosso è appunto tra il Triboli di Morce e Fogarolo, con un intervento ad oggi comuni, Rovetta e Gandino hanno messo a disposizione con i fondi BIM dell'olio circa il 60 mila euro. Adesso ci saranno gli altri 40-50 che mancano per completare l'intervento, che è un lavoro che stiamo facendo come comunità montana ma anche con la collaborazione di altri enti sul territorio perché questo è un servizio di collegamento per tutta la zona, quindi il collegamento della Val Seriana con la Val Gandino e con la Val Cavallina.